Per via della sua timidezza dicevano la Muti è muta e lei ha detto ma ora dice sono stanca di rimproverarmi per come sono e lei com'è? Sono timida, ero anche in ambienti in cui probabilmente ero giovane, non sapevo bene come rapportarmi. In realtà lo sono sempre timida, non mi piace espormi tanto, non mi piace mostrare le mie fragilità anche se poi le mostro. Allora per rompere il ghiaccio mi dica un suo pregio? La pazienza. E un suo difetto senza farsi un complimento? Sono permalosa. Molto? Molto. Non mi preoccupare? No, so di essere permalosa dunque lo controllo. La rivista americana Class nel 94 realetta la donna più bella del mondo, com'è essere la più bella di tutte? Ma non è vero. Ma lei come si è sentita? Spaventata. Perché quando hai un titolo di questo genere poi lo devi perdere, allora non ti puoi abituare perché tanto fra un po' non ce l'hai più. Dunque è meglio lasciarlo andare. Lei ha detto che sono sempre stata considerata un simbolo sessuale e se vogliamo parlarne onestamente il dato mi ha penalizzato. Essere descritta per anni come una bomba sexy, delle conseguenze le ha lasciate. Che conseguenze? Hai un titolo che è appioppato. La gente non sa se è veramente così. Viene detto che è così. Poi magari non lo sei, per cui sei deludente. E poi comunque essere un oggetto sessuale, una bomba sessuale, non è che mi gratifichi tanto. Non è che mi gratifichi tanto.